allora buongiorno a tutti i cataluchesi di mondiale siamo qua nel tuo dinastia a rivier di prerì mi stai portando un vestito a fare lavare qua con una roba nella vestita e poi c'è un magimonio domani mattino allora buongiorno a tutti diciamo ciao in cinese mi hao mi hao mi hao buongiorno ho lavandrino adesso non mi porto il vestito buongiorno a tutti ciao